Dopo un'altra settimana turbolenta è ora di tornare in campo. Il Gela ospita lo stadio Vincenzo Presti, il Messana, formazione che veleggia nei bassi fondi della classifica regione B del torneo di eccellenza. La squadra di Mirko Fauciana dovrà ancora una volta fare i conti con tantissime assenze. Soprattutto ci sarà una difesa da reinventare per le squalifiche di Gambuzza, Martinez, Tuve e Golisano. A questi si aggiungono anche le condizioni imperfette di Resuffe e Bellomo che potrebbero non esserci. Nella migliore delle ipotesi partiranno dalla panchina. La situazione societaria intanto è in fase di stallo. Il divorzio annunciato tra Marco Scerra e Maurizio Melfa è in via di definizione. I consulenti sono al lavoro perché oltre alla prima squadra di eccellenza nella fusione era stato inglobato il calcio A5, fresco retrocessione aritmetica dalla serie B1. Nei prossimi giorni si dovrebbe sapere qualcosa in più. Il Gela Futsal torna intanto in casa. Al pala Alivatino arriva il Mistral Meeting Club di Palermo, terza in classifica. Una gara priva di grandi motivazioni per i bianco-azzurri, considerato che il team di Enzo Fecondo è già retrocesso in C1 matematicamente. In prima categoria di calcio invece la capolista Niscemi gioca oggi sul campo il Sant'Anna, forte di 5 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. La vigorgela di Maurizio Nassi affronta l'Aragona con l'obiettivo di mantenere la zona playoff. Nel basket si pronuncia una domenica che sembra agevole. Il lanciatissimo quintetto di Salvatore Bernardo affronterà al pala Alivatino la nuova pallacanestro Marsala. Palla 2 alle 18. La Melfast Basket punta alla nona sinfonia stagionale consecutiva ed un posto anche più ambizioso in classifica. Nella pallavolo Ecoplasti in trasferta sul campo del Pozzallo nella Serie C maschile per difendere il primo posto. Stesso obiettivo nel femminile per la nuova città di Gela in trasferta a Carlentini. Infine il volley Gela sul parquet di Son Matino contro il Riesi.